In questo video vediamo i 5 migliori tapis rulanti in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo FitFew. Ha 12 programmi predefiniti per una formazione più completa. Lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale per visualizzare velocità, tempo, calorie bruciate, distanza percorsa e frequenza cardiaca. Il sistema di ripiegamento del nastro è semplice e veloce e consente di ridurre al minimo lo spazio di stoccaggio. Ha anche due ruote che ne facilitano il trasporto da un luogo all'altro. Il prezzo è di 289 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo DiAdora. Semplice e dal prezzo accessibile, ma che presenta tutte le caratteristiche necessarie per un allenamento ottimale, computer multifunzione a LED che vi consente di monitorare i principali parametri di allenamento, 36 programmi di velocità, 3 programmi utente personalizzabili, 3 programmi target, il calcolo della massa grassa, la rilevazione cardiaca palmare ed il piano di corsa ammortizzato, inclinabile su su tre livelli, ne fanno un tappeto completo ed adatto anche agli utenti più esigenti. Il prezzo è di 399 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Baccagi. Questo tapis rulante è perfetto per dimagrire, allenare e tonificare tutto il corpo come gambe, pancia, fianchi, rafforza il sistema cardiovascolare, migliora la resistenza e aumenta la capacità polmonare. Fornito di un potente e silenzioso motore che fornisce una velocità massima di ben 12 chilometri orari e regolabile tramite i tasti rapidi del computer, utile in particolar modo per gli allenamenti frazionati inoltre, è possibile aumentare o diminuire la velocità a gradi di un chilometro orario. Il prezzo è di 329 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Capital Sports. Tecnologia sofisticata, con maggiore velocità in modalità sportiva per un allenamento ancora più veloce. Il Pacemaker F100 offre tecnologia moderna e funzionalità integrate per una confortevole esperienza di allenamento a casa. Il prezzo è di 439 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Govita. Questo strumento di Hirum grazie alla sua compattezza ti consente di eseguire esercizi cardio essenziali che ti aiuteranno ad eliminare il grasso corporeo nel comfort di casa tua. Hirum dispone di 16 programmi di formazione preimpostati progettati per simulare terreno naturale, con tre opzioni di inclinazione da scegliere. Il suo design minimale contribuisce ad un semplice utilizzo anche in spazi piccoli. Il prezzo è di 529 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.